ma pensate dopo tutto un anno di ore a capitare sta cosa ma questa cosa qui che non si capisce bene ma stai tranquillo che ti voglio far sentire a casa se la metto qua va bene perfetto ma l'hai portato da Milano si 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 non ti preoccupare papà non ti preoccupare tranquillo stai sereno è quello l'originale è l'originale la lascio qua si si no mettilo lì che la vedo meglio aspetta la sposta devi stare sereno e tranquillo direlo un po' come fanno non ti preoccupare questa la lasciamo qua da te perché la tua serenità è la nostra serenità stai sereno stai tranquillo papà non ti preoccupare puoi ti tiro un po' su un po' giù come stai prendilo prendilo ce lo faccio più ce lo faccio più dai mi devo alzare aps 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 Grazie a tutti.